Signor Sindaco, siamo a pochi minuti dall'inizio di questa prima edizione del Festival Scienza Oliena. Le sue prime impressioni? Impressioni assolutamente positive. Finalmente anche a Oliena siamo riusciti a portare un appuntamento di così grande importanza. Stiamo parlando di scienza e quindi stiamo parlando di conoscenza, di tutto ciò che ci circonda. E tutto questo è rivolto ai ragazzi, il che non può che essere più che positivo. Quindi già possiamo aspettarci, come dire, di una seconda edizione per il prossimo anno? Assolutamente sì, c'è grande entusiasmo perché sono eventi questi che rafforzano le conoscenze dei ragazzi ma danno anche il lustro al Paese.